buongiorno benvenuti sul mio canale youtube per chi non mi conosce mi presento mi chiamo elisa sono un'operatrice olistica specializzata in percorsi per le fiamme gemelle se poi vuoi conoscermi meglio puoi andare nel mio blog www.caminospirituale.com oggi voglio parlarti di una cosa importante e questo video per chi è è per le fiamme gemelle che che fanno proprio fatica ad affrontare l'allontanamento della fiamma quindi oggi vi parlerò delle varie fasi che si attraversano nel lutto perché le fasi che si attraversano nel lutto perché quando il fiammo anche in generale persona che comunque tu ami si allontana tu passi le vere e proprie fasi del lutto queste fasi quali sono la fase della negazione quindi non riesci non solo ad accettare ma nemmeno a prendere in considerazione che il fiammo se se ne sia andato e ti risulta proprio impossibile credere che non farà più parte della tua esistenza e quindi che cosa accade che non riesci neanche a concepire questo nuovo stato come facente parte della tua realtà e quindi che cosa succede che ti rifugi nella quinta dimensione dove lui è presente e ti rifugi lì perché neghi il fatto che lui ora si sia allontanato e sei in uno stato di torpore di estraneamento lontano il pensiero alzi un muro di difesa per prendere tempo perché per te è ancora tutto troppo grande la seconda fase è la rabbia quindi una volta che hai preso atto di questo allontanamento e ti sei aperta al dolore vivi quanto è accaduto con una profonda ingiustizia ingiustizia per lui che se ne è andato per per la tua vita che quindi adesso cambia e per i progetti che non puoi realizzare adesso e quindi devi fare conti comunque con la sua assenza in terza dimensione quindi questa rabbia poi deve potersi riversare su qualcuno sfogarsi e allora non è raro che si cerca proprio una sorta di caprispettorio qualcuno da accusare che ha lasciato che questo accadesse questa cosa spesso capita accusando magari le forze oscure oppure accusando la moglie accusando i figli accusando la fidanzata accusando sempre qualcun altro oppure proprio accusando lui perché ha i blocchi perché ha paura e così via quindi questa rabbia o o si riversa su di lui o si riversa sulle forze oscure o si riversa sulla fidanzata moglie figli famiglia suoi quindi questa è la fase in cui maggiormente si presenta una richiesta di aiuto anche inconscia ma questo non significa che se questa richiesta dovesse trovare risposta tu l'accetteresti perché il rischio maggiore è proprio che al contrario tu ti chiuda sempre di più in te stesso e questo può avere due risvolti ovvero un risvolto che è positivo nel senso che se tu entri in te stesso ti analizzi prendi una nuova consapevolezza sciogli quello che quello che ti provoca il dolore che in realtà non è solo un tratamento ma può essere una ferita atavica che hai dentro di te che genera questo immenso dolore come la ferita dell'abbandono del rifiuto dell'ingiustizia o così via oppure nel caso contrario ti chiudi nella tua rabbia e la fai sempre sempre più crescere poi la terza fase quella della contrattazione ovvero che comincia ad accettare comunque quello che è accaduto lo vivi come un'ingiustizia sì ma pensi anche che non puoi fare altro di prenderne atto e cominciare ad andare avanti quindi prendi in mano la tua vita alterni momenti di abbandono che sconfinano con la depressione a momenti di speranza anche se ti chiedi quali quali pro quali progetti tu ora possa fare nella tua vita perché perché pensi di aver perso il tuo progetto della missione quindi che cosa accade in questo caso che si ricomincia da capo se si ricomincia dalla negazione rabbia contrattazione perché perché scatta un'altra un altro è come se avesse una sorta di altro abbandono della tua missione e quindi questa è ancora la parte più difficile in realtà per per le fiamme gemelle poi la quarta fase quella della depressione quindi arrivato a questo punto sarai investito da un'autentica quasi improvvita presa di coscienza della tua perdita ti soffermerai su tutto quello che non potrai più avere su quello che non potrai più condividere col fiammo o con la fiamma questa è la fase della disperazione più acuta della depressione vera e propria e sarai colto da mal di testa perdita aumento del peso corporeo incapacità di concentrarti provare gioia rattività insonnia o sonno troppo frequente frustrazione e rabbia perenne tristezza e volontà di staccarsi allontanarsi dagli altri e la depressione è molto è molto probabile che si che si risolva da sé attraverso la sua elaborazione sul superamento però se questa cosa non accade entro i sei mesi un anno fatti aiutare mi raccomando perché la depressione comunque una cosa seria la quinta ultima fase quella dell'accettazione quindi anche se si possono ancora facciare nella mente stati motivi di di rabbia o depressione anche se questa depressione è comunque in un livello emotivo molto minore rispetto alla fase precedente adesso sei pronta a dare un senso quanto è successo e scriverlo nell'ordine naturale delle cose e ad accettare il fatto che adesso la fiamma si è allontanata e ad andare avanti comunque con la tua vita ok quindi queste sono le fasi che si attraversano quando la fiamma si allontana da te sono fasi che devono essere attraversate tutte per arrivare appunto alla fase finale dell'accettazione una fase che veramente molto molto importante quindi come gestire l'allontanamento passandosi tutte queste cinque fasi con la consapevolezza che è un cammino di crescita un cammino di evoluzione che nessuno ti sta punendo non è una punizione divina non è dio che ti ha separato non sono le forze scure che vi hanno separato non è la moglie non è il figlio accettazione semplicemente di quello che è accaduto per poter andare avanti ok io con questo non ti sto dicendo guarda che è andato via e poi non tornerà mai più assolutamente no però bisogna compiere tutti questi passaggi perché in tutti questi passaggi c'è la tua crescita in tutti questi passaggi ci sono le ferite che devi affrontare per giungere alla migliore versione di di te stesso non solo per te stesso ma anche per lui o per lei quindi ragazzi per oggi questo è tutto vi chiedo solamente di condividere il video aiutatemi aiutatemi a renderlo virale perché questo è veramente un passaggio importante che interessa tantissime persone commentate 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 e niente ragazzi ci vediamo al prossimo video vi mando un bacio grande ciao